Manca poco alla settimana dell'educazione ambientale. L'iniziativa, promossa dal WWF Abruzzo, riguarda corsi di formazione che si terranno dal 3 al 10 di settembre, rivolte a insegnanti e operatori dei centri di educazione ambientale. Quest'anno scolastico che parte con tanti dubbi e tanti incertezze, abbiamo pensato di puntare sulla natura, quindi offrire agli insegnanti un corso di formazione che diede gli strumenti per poi operare nelle classi in modalità di laboratorio. Invitiamo anche le classi a venire nelle nostre oasi in modo da poter usufruire di un ambiente esterno all'aperto. I corsi si terranno nei centri del WWF, in alcuni dei luoghi più suggestivi d'Abruzzo. L'obiettivo è formare i docenti, così che poi a cascata vengano formati anche gli studenti tramite i laboratori scolastici. L'obiettivo è formare gli insegnanti perché finalmente si possa mettere al centro la natura. La pandemia che abbiamo vissuto ci ha insegnato che non possiamo vivere distaccati dal sistema naturale e che quello che è successo ci impone un cambiamento di stile di vita che può iniziare proprio dalle scuole.